Amen, benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, lieto di essere ancora qua con voi, che il Dio possa benedire ogni persona che ci sta seguendo in questo momento qui in Italia e nel mondo, che la tua casa sia benedetta nel nome di Gesù Cristo e in questo momento ti chiedo di fermarsi un minuto, farò una preghiera e dopo alla fine faremo questa preghiera guidata che ci ha chiesto il fratello Petrone. Ma in questo momento fermati un minuto e io pregherò per te e per questi minuti assieme. Signore, grazie, grazie per questa occasione che abbiamo di trasmettere il tuo messaggio, di gettare il seme nei cuori di queste persone, io vorrei benedire a tutti coloro, Signore, che ci ascoltano, che ci seguono in questo momento, che la tua parola, che è vivente, che è efficace, possa veramente penetrare nel loro cuore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen, amen. è una parola molto rapida da Darvi che si trova nel Vangelo di Luca, capítulo 11, o meglio dicendo versetti a partire dal versetto 11, che la regia propone in questo momento, e dice così la parola di Dio. Pouco dopo, il si aviò verso una città che amata Nainia, e il suoi di Gesù e una gran fola andavano con lui. Quando fu vicino alla porta della città, eco che si portava alla sepoltura, un morto, figlio, figlio unico di sua madre, e molta gente della città, era con lei. Il Signore veduta la, ebbe pietà di lei, e le disse, non piangere. E avvicinato si, toccò la barra, i portatori si fermarono, ed egli disse, ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise a sedere, e cominciò a parlare, e Gesù lo restituì a sua madre. Tutti furano presi da timore, e glorificavano Dio, dicendo, un grande profeta è sorto tra di noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Fino qua. Amè? E' un testo biblico dove l'Evangelista Luca ci parla di questa donna, e il suo nome non viene lasciato, ma il fatto sta che questa donna vive un momento molto singolare, e cioè, lei al suo tempo stava vivendo tranquillamente con la sua famiglia, e suo marido, e suo figlio. Figlio questo che hanno fatto con gran amore, e, all'improvviso, in poco tempo, lei perde il suo marido e il suo figlio. A quel tempo, una vedova, una vedova, si moriva il marido, era il figlio a prendere cura della sua madre, in tutti i veri sensi che tu possa immaginare, in tutti i veri sensi. Ma questa donna, per fartela breve, si trovava adesso senza nessuno che aveva cura di lei. Senza sapere come sarebbe il suo futuro. Lei sta piangendo la perdita del suo unico figlio, oltre a quella che fu del marido. Noi viviamo dei giorni, e chissà te che ti stai seguendo, stai vivendo dei giorni dove spesso nell'arco della tua vita, tu stai piangendo perché qualcosa è morto. Questa donna piangeva perché era morto il figlio, oltre che fu morto il marido. E chissà il tuo pianto è perché qualcosa è morto. Perché tutto ciò che è sotto il sole muore. la vita finisce. Ma tutto ciò che l'uomo crea o creò perisce. i sentimenti possono morire. I progetti muoiono. I sogni muoiono. cos'è morto per te? cos'è morto? qual è il motivo del tuo pianto? oggi Dio andò 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 Gesù dolore che tu era un corteo esce dalla sua bocca è questa. non piangere. non piangere. alleluia. oggi lo spirito santo attraverso la sua parola sta dicendo a te non piangere. cessa di piangere. smetti oggi di piangere. alleluia. e dentro di questa situazione che tu stai vivendo Gesù sta entrando oggi per portare un cambiamento. la Bibbia dice che gli tocca nella barra questa barra che tu stai portando la barra del morto portando che ti rimane sempre nella tua mente e ogni qual volta che tu pensa e ogni qual volta che tu piangi pensa tu piangi. oggi Gesù sta pronto per realizzare una grande opera un grande miracolo per te che credi. Ele oggi sta dicendo a ciò che è morto per te. a questa situazione o a questo sogno o a questa promessa Ele sta dicendo alza-te alza-te e alleluia Gesù sta facendo risolio per tu che credi per tu che credi io devo finire con questa parola e lo Spirito Santo mi spinge a dirte ancora non piangere non piangere io sto entrando in questa causa io sto entrando in questa situazione se tu credi se tu credi se tu credi in questo momento facciamo la preghiera insieme dove tu sei alza le tue mani così come mani per ricevere e dica così come ripeti come adesso Signore Gesù io credo nella potenza del tuo nome io credo nella potenza della tua parola e tu stai dicendo che sta portando in vita qualcosa che è morto per me che mi causò gran dolore ma che sarà pure il motivo della mia gioia perché oggi tu stai entrando nella mia causa tu stai operando al mio favore io aferro la tua parola e ti rendo grazie Gesù Cristo amè grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie a tutti